La musica è cambiata! Canta Festival Giro New Generation 2012, tutta un'altra musica! Sarà in diretta su Sky, altre 70 televisioni nazionali ed internazionali e sarà anche su 100 Radio FM. Le iscrizioni sono già aperte, quindi se sei un cantante, sei una band, sei un duo, sei un trio, sei un cantautore devi solo andare sul nostro sito www.cantafestivalgiro.com oppure mandaci una tua demo a selezioni-cantafestivalgiro.com o al limite chiedici pure l'amicizia su Facebook. Canta Festival Giro, tutta un'altra musica!